Cari lettori, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo storico su un capitolo poco conosciuto della storia italiana durante la Seconda Guerra Mondiale. Si concentra sugli eventi successivi all'armistizio dell'8 settembre 1943, quando l'Italia annunciò la sua resa e cambiò alleanza abbandonando l'asse e diventando un nemico dell'ex alleato tedesco. La narrazione si focalizza sullo sfaccello del reggio esercito italiano dopo l'armistizio e sulle conseguenze disastrose che ne derivarono. Leggere questo libro è importante perché fornisce un approfondimento sulla sofferenza e la resilienza di migliaia di soldati italiani che, dopo l'armistizio, si trovarono in una situazione difficile e spesso inumana. Attraverso queste testimonianze, si può acquisire una maggiore consapevolezza dell'impatto devastante della guerra sulla vita delle persone comuni e sulla storia del nostro paese. La trama del libro Schiavi di Hitler dello scrittore Mimo Franzinelli, pubblicato dalla casa editrice Mondadori, è la seguente. All'annuncio dell'armistizio, divulgato radiofonicamente dal maresciallo Badoglio, l'8 settembre 1943, segue rapidamente, in patria e all'estero, lo sfaccello del reggio esercito. Da Milano a Roma, dalla Francia alla Jugoslavia sino all'isola di Cefalonia, i reparti italiani, lasciati senza direttive, sono esposti all'offensiva dell'ex alleato tedesco e oltre 750 mila tra soldati e ufficiali vengono catturati e deportati nei lager del Reich. Di questi, solo una minoranza accetta di aderire alla Repubblica Sociale Italiana in cambio della libertà. Le esigenze dell'economia bellica nazista trasformano quella massa di uomini in forza lavoro coatta, schiavi di Hitler fino alla fine della guerra. Basandosi su diari, lettere e fonti d'archivio, Mimo Franzinelli ripercorre la storia dolente della resistenza senza armi di quegli uomini sottoposti a condizioni terribili e per i quali verrà istituita la categoria di internati militari italiani per privarli delle garanzie internazionali previste per i prigionieri di guerra. Alle pagine di analisi storica, in cui vengono ricostruite le modalità di cattura di migliaia di giovani soldati, la loro odissea verso i campi di concentramento, le dinamiche collaborazioniste e la strategia alpersuosiva della RSI, subalterna alle esigenze dei nazisti, fa da contraltare la narrazione della vita quotidiana nei lager in uno stato di privazione assoluta. A raccontare il proprio calvario sono i protagonisti stessi, uomini finora trascurati dalla storia, ma anche figure note, da Giovannino Guareschi a Mario Rigoni Stern. Corredato di una ricca bibliografia, con il censimento delle memorie di tanti internati, schiavi di Hitler approfondisce anche la terribile realtà delle stragi sconosciute, perpetrate in diverse località da militari tedeschi nella ritirata finale e ignorate nel secondo dopoguerra dalla magistratura militare italiana, in una negazione della giustizia di cui vengono esaminate ragioni e conseguenze. Ma l'opera di Franzinelli rappresenta soprattutto il doveroso omaggio ai tanti reduci dai lager che, divenuti stranieri in patria ed esclusi per decenni dalla memoria collettiva, hanno ricevuto solo di recente un tardivo e, per molti, postumo, riconoscimento del valore di quella loro resistenza. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato, se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.